... Eh, dove sono? Le moglie, le mire... ...dicono le mie storie ...casi ...casi qualsiasi quale voglio che so ...apeno non si vedeva ...ovviamente c'erano tante cose interessanti però qui è un altro tipo di... ...tevo ricordare che sei ancora sotto più scala ...anche due trucchetti... ...se non è un trucchetto... ...vabbè sì... Vabbè, non ha fatto danno, non c'è scritto niente. Da me è particolare la ragione, mi vuol dire che non è già accaduto. Voi non sentite niente, è un zio di Calzara. Quindi una cosa di genere a me non fa che si muove, perché vuol dire che è un problema.